Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning E come potete vedere sto in macchina ma non è la mia E in quanto ho già avvisato, magari qualcuno di voi già lo sa Ho scritto sulla mia pagina Facebook che praticamente ho un problema alla mia Mido In quanto si blocca il volante Quindi ho portato la macchina in Alfa Romeo E devo aspettare un po' di tempo prima che il pezzo arrivi, poi il montaggio eccetera Quindi è successo un bel casino Detto ciò voglio portarvi alcune news perché ultimamente non sto registrando Cioè il motivo per il quale non sto registrando è che ho iniziato anche a lavorare Quindi da più o meno una settimana Quindi ancora mi devo ritrovare con i tempi tra lavoro, corsi pomeridiani E a volte anche lo sport e le uscite con gli amici mi resta ben poco tempo Poi ci si è messa anche la Mido che non funziona quindi ho avuto altro per la testa Detto ciò volevo dirvi che comunque ho già dei video pronti E prossimamente vi metto anche, posterò anche un video di un raduno Un raduno che ho fatto prima che la Mido si rompesse E' organizzato dall'Alfa Romeo Mido Grapp Lazio Di cui vi lascio tutti i link in descrizione E' stato fighissimo Poi ci sono stati eventi un po' strani ecco Che non erano in programma e quindi ci siamo divertiti molto alla fine Anche se era il primo raduno Quindi vi lascio i link qua sotto in descrizione Della pagina Facebook e della pagina Instagram Poi ho comprato delle cose da mettere in macchina Che riguardano un po' appunto visto che ho la macchina ferma Volevo approfittarne di smontare l'autoradio e i led Per rimontarli e per fare un video al riguardo Visto che devo aspettare un'infinità di tempo prima che arrivi il ricambio per la macchina Non è questa sta ferma in garage Cioè io non è che posso stare a aspettare gli altri Quindi qualcosa devo fare E un'altra cosa Ho visto che il video quello sull'unboxing Della valvola pop off E del filtro a pannello dell'aria Scusate A pannello della BMC Hanno superato di gran lunga Il limite dei like che avevo chiesto Quindi insomma ho visto che la cosa vi è piaciuta e vi è interessata E quando mi ritornerà la macchina Cioè quando finirò di aggiustarla Da questo problema li monterò Adesso visto che la devo portare in casa Alfa Romeo Non mi conviene stare a cambiare i pezzi del motore eccetera E quindi prossimamente vi porterò anche i video su quei montaggi ecco come promesso Se non siete iscritti iscrivetevi sempre E se non siete soprattutto iscritti alla mia pagina facebook Fatelo ecco perché lì spesso do notizie di ciò che succede Invece qua su youtube ovviamente non riesco ogni volta a dire e ad aggiornare Quindi vi lascio il link della mia pagina facebook in descrizione Io per questo video illustrativo Vi saluto Ciao a tutti Ciao a tutti